Ciao, sono Jessie. Probabilmente siete arrivati a questo video perché volete saperne di più sulla Vitavisina, ovvero su come alleviare la stanchezza e l'affaticamento degli occhi, eliminare il gonfiore oculare e migliorare la salute degli occhi. Quindi guardate questo video fino alla fine e vi prometto di chiarire tutti i vostri dubbi e anche di darvi un avvertimento che forse non conoscete. Ma restate fino alla fine per capire meglio. Come agisce Vitavisin sulla vista, grazie alla combinazione unica di micronutrienti ed estratti vegetali, aiuta a migliorare la vista e a eliminare il gonfiore degli occhi. Si tratta di un prodotto la cui azione è volta principalmente a ridurre i problemi oculari legati all'età e a fornire vitamine e minerali essenziali per garantire una buona visione. E quali sono gli ingredienti di Vitavisin? La riboflavina, B2, aiuta a eliminare le borse, le occhiaie e a bloccare la perdita della vista. In caso di miopia e ipermetropia, lo zinco migliora la capacità dell'occhio di vedere a diverse distanze. Se si lavora a lungo al PC, la tiamina, B1 e la B12 riducono l'affaticamento. Creano una barriera protettiva per gli occhi e filtrano oltre l80% dei raggi UV. Oltre a questo potente ingrediente, Vitavision contiene una miscela di altri ingredienti che insieme aumentano ulteriormente i risultati. In quali casi si può usare Vitavisin? In caso di visione offuscata, affaticamento dei muscoli oculari, neopia, astigmatismo, sindrome dell'occhio secco o acquoso, sensazione di sabbia o corpo estraneo nell'occhio, infiammazioni frequenti, bruciore, dolore e arrossamento. Come assumere Vitavisin per eliminare le cause delle malattie degli occhi? Assumere quotidianamente. Assumere due capsule al mattino e due capsule alla sera, durante i pasti con un bicchiere d'acqua, per almeno quattro settimane. Si consiglia di ripetere il ciclo di trattamento a ogni cambio di stagione. L'assunzione regolare delle capsule di Vitavisin aiuta ad alleviare il gonfiore, a migliorare la vista e a prevenire le malattie degli occhi. E cosa hanno dimostrato gli studi? Un totale di 2350 volontari ha preso parte agli studi clinici sul prodotto. Tutti i partecipanti soffrivano di un eccessivo affaticamento degli occhi o presentavano patologie oculari. L86% ha notato un miglioramento soggettivo della vista. Il 93% ha notato un notevole sollievo dai sintomi sgradevoli e L89% ha notato una riduzione della frequenza delle infiammazioni. E ci si può chiedere? Vitavisin è sicuro? Sì, Vitavisin contiene solo ingredienti naturali, testati e completamente sicuri per la salute. Quindi non provoca alcun effetto collaterale. L'avvertimento che voglio lasciarvi è, fate molta attenzione all'autenticità di questo prodotto. A causa del successo di Vitavisin, purtroppo molte persone vendono prodotti falsi. Quindi, sappiate che Vitavisin è venduto solo sul sito ufficiale e non lo troverete su Amazon o su altri mercati. Per aiutarvi, ho lasciato un link al sito ufficiale qui sotto nella descrizione di questo video. Solo questo link vi porta al sito ufficiale. Quindi controllatelo non appena avete finito di guardare questo video, ok? Tuttavia, dovete prendere sul serio il vostro trattamento, perché se non lo fate, probabilmente vi sentirete frustrati. Quindi ricordate che ogni corpo reagisce in modo unico e che gli ingredienti di Vitavisin sono scientificamente provati. Allora, Vitavisin funziona? È più che dimostrato che funziona. Molte persone usano Vitavisin con ottimi risultati e senza effetti collaterali. Quindi sì, è un prodotto affidabile. Spero davvero di avervi aiutato con questa recensione. Non dimenticate di visitare il sito web tramite il link nella descrizione di questo video. Grazie.